Con questo video concluderemo la panoramica sull'e-shortcut iniziata nel video precedente. Buona visione! Come abbiamo visto nella lezione precedente, l'e-shortcut sono delle forme composte da backslash più carattere alfabetico ed ogni shortcut fa riferimento ad una specifica classe di caratteri. Nell'esempio quindi troviamo corrispondenza con la stringa contenuta nella Perl Favorite Default poiché cerchiamo corrispondenza con una sequenza di esattamente 6 caratteri numerici da 0 a 9. Al momento dell'esecuzione, infatti, lo shortcut backslash d viene interpretato e viene considerato come carattere numerico da 0 a 9. Eseguendo lo script abbiamo, come previsto, corrispondenza trovata. Dopo questo breve rinfresco di memoria, volevo presentarvi un'altra shortcut tanto utile quanto ingannevole, ovvero la word shortcut. Il Perl considera word o parola, che dir si voglia, qualsiasi carattere alfabetico maiuscolo o minuscolo, qualsiasi carattere numerico da 0 a 9 e l'underscore. Tutto il resto non viene considerato word. Vi ho preparato questo semplice script per mostrarvi con più chiarezza il funzionamento dello shortcut word. Ad ogni ripetizione si stabilisce se il carattere immesso si tratta di una word e si stampa in output il risultato. Proviamolo. Quindi, come abbiamo detto, il Perl considera word qualsiasi carattere alfabetico dall'A alla Z minuscolo o maiuscolo, qualsiasi carattere numerico da 0 a 9 e l'underscore. Quindi, se noi inseriamo A minuscola, viene classificata word. Se si inserisce A maiuscola, anche in questo caso viene considerata word. Se si prova ad inserire un carattere numerico, anche in questo caso viene classificato word. Mentre, se si prova ad inserire il punto interrogativo, non viene riconosciuto come word. idem per il punto esclamativo. Però, se invece inseriamo l'underscore, l'underscore viene classificato word. Quindi, memorizzatelo bene. Il Perl considera word qualsiasi carattere alfabetico dall'A alla Z minuscolo o maiuscolo, qualsiasi carattere numerico da 0 a 9 e l'underscore. Insisto perché è un concetto molto importante. E, visto che siamo in tema di word, voglio proporvi un trabocchetto. Come abbiamo visto nella lezione precedente, le ancore di parola servono a definire l'inizio e la fine di una sequenza. E, proprio per questo, nell'esempio, troviamo corrispondenza con capo-redattore-capo e non con capo-redattore, poiché stiamo cercando corrispondenza con la sequenza inizio-capo-fine. Detto ciò, passiamo al trabocchetto. Nello script che ho preparato, si cerca corrispondenza con la sequenza https2.doppio-slash. Se viene trovata corrispondenza con la stringa contenuta nella Perl Favorite Default, stampa in output che la stringa rappresenta un protocollo. In caso contrario, avremo in output per me la cipolla. Guardate un po' cosa succede se si esegue lo script. Abbiamo la cipolla in output. Eppure, l'espressione regolare parla chiaro. Si sta cercando corrispondenza con la stringa inizio-https2.doppio-slash-fine. Vi invito a stoppare il video e a riprenderne la visione una volta che avrete formulato una possibile soluzione. Ci siete? Vediamo chi di voi ha indovinato. Allora, innanzitutto, guardate cosa succede se si sostituiscono le ancore di inizio e di fine parola con le ancore di inizio e di fine stringa. La corrispondenza viene trovata correttamente. Quindi, il problema a questo punto dove sta? Il problema sono proprio le ancore di parola perché, come abbiamo detto poco fa, il Perl considera parole i caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli i caratteri numerici da 0 a 9 e l'underscore. Infatti, le ancore di parola stabiliscono sì l'inizio e la fine di una sequenza ma non di una sequenza generica bensì di una sequenza composta interamente da Word. E perché non viene trovata corrispondenza con le ancore di parola, quindi? Perché la sequenza HTTPS due punti doppio slash termina con ben tre caratteri che non vengono considerati Word invalidando così le condizioni di matching. Infatti, se si tolgono i caratteri incriminati e si riesegue lo script l'operazione di matching a questo giro trova finalmente esito positivo in quanto la sequenza inizia e termina con caratteri classificati Word. Quindi, fate molta attenzione ai tipi di ancore che utilizzate nelle vostre espressioni regolari poiché, come avete visto, basta veramente poco per regalarsi giornate di sano divertimento. Complimenti a chi è riuscito ad arrivare da solo alla soluzione. Passiamo adesso a vedere come sfruttare le proprietà Unicode all'interno delle espressioni regolari. Breve introduzione sul sistema di codifica Unicode Unicode è, per l'appunto, un sistema di codifica progettato con l'obiettivo di includere tutti i set di caratteri del mondo sotto un unico standard. Come funziona questo sistema di codifica? Ad ogni carattere viene assegnato un codice univoco ed inserito in una delle categorie generali. Il Perl considera queste categorie come proprietà e ci mette a disposizione uno shortcut per consentirci di fare facilmente riferimento a questi enormi gruppi di caratteri quando si ha la necessità di utilizzarli all'interno di un'espressione regolare. Ovviamente ci sarebbe molto altro da dire riguardo a Unicode e quello che è stato detto poteva essere detto anche meglio ma comunque ora avete il minimo funzionale per riuscire a capire meglio l'utilizzo delle proprietà Unicode all'interno delle regex e questo è quello che conta. Passiamo all'esempio e analizziamo l'espressione regolare contenuta nel blocco if. Con cosa otterremo corrispondenza? Troveremo corrispondenza con una stringa dove i primi tre caratteri e gli ultimi tre caratteri sono caratteri numerici e questa forma qua cosa vuol dire? Lo shortcut backslash p sta per Unicode property Infatti se inseriamo una proprietà, in questo caso la proprietà letter tra parentesi graffe, cosa succede? Andiamo ad indicare all'interprete di fare riferimento alla proprietà specificata. Quindi una volta valutata l'espressione regolare con cosa troveremo corrispondenza? Con una stringa composta da tre caratteri numerici un qualsiasi carattere avente proprietà letter quindi un carattere alfabetico ed infine altri tre caratteri numerici Infatti se eseguiamo lo script abbiamo in output ok poiché la stringa contenuta nella perl favorite default rispetta le condizioni di matching ovvero tre caratteri numerici carattere alfabetico ed infine altri tre caratteri numerici Guardate un po' cosa succede se si sostituisce la x con i due punti Abbiamo not valid in output poiché i due punti non hanno come proprietà letter e vanno quindi ad invalidare le condizioni di matching Se andiamo a sostituire la proprietà letter con la proprietà punkt ovvero la proprietà che appartiene ai caratteri di punteggiatura abbiamo come previsto ok in output Ho riscritto la solita espressione regolare vista nell'esempio precedente sostituendo le classi di caratteri numerici con le proprietà unicode Facendo riferimento alla proprietà unicode digit tiriamo in ballo la classe generale unicode che contiene i caratteri numerici ottenendo così il solito risultato in output Come abbiamo visto nella lezione precedente la forma maiuscola di uno shortcut generalmente indica la relativa negazione Se infatti si utilizza lo shortcut backslash più P maiuscola si fa riferimento ad un qualsiasi carattere non appartenente alla classe generale indicata fra parentesi graffe Guardiamo l'espressione regolare nell'esempio Con cosa troverà corrispondenza? Con una stringa composta da tre caratteri non numerici poiché abbiamo utilizzato la forma maiuscola dello shortcut backslash P un carattere di punteggiatura ed infine tre caratteri numerici Eseguiamo lo script e abbiamo in output not valid poiché i primi tre caratteri della stringa sono caratteri numerici Per trovare corrispondenza come abbiamo detto all'inizio della stringa si dovevano trovare tre caratteri non numerici Se si sostituiscono i primi tre caratteri della Perl Favorite Default con dei caratteri alfabetici ad esempio abbiamo in output come previsto ok poiché le condizioni di matching vengono adesso rispettate Un'altra forma valida di negazione di proprietà Unicode è P minuscola e accento circonflesso tra parentesi graffe Infatti utilizzando questa forma otteniamo il solito risultato ovvero andiamo a negare la proprietà specificata tra parentesi graffe Anche qua ci sarebbe molto altro da dire riguardo il rapporto per Unicode ma rischierei di andare completamente oltre gli obiettivi di questa playlist Tuttavia se l'argomento vi interessa e volete approfondire vi lascio il link alla documentazione ufficiale che tratta questo argomento in maniera chirurgica Prima di salutarci volevo inoltre mostrarvi la possibilità di creare classi di caratteri utilizzando gli shortcut Nell'esempio si crea una classe di caratteri contenente tutti i caratteri numerici da 0 a 9 e tutti i caratteri di punteggiatura L'espressione regolare quindi troverà corrispondenza con un qualsiasi carattere numerico o di punteggiatura all'interno della stringa Eseguiamo lo script Nessuna corrispondenza trovata poiché non sono presenti né caratteri numerici né caratteri di punteggiatura Proviamo ad aggiungere un carattere numerico Corrispondenza trovata Proviamo ora ad aggiungere il punto interrogativo anche in questo caso Corrispondenza trovata Bene, direi che anche per questa lezione è tutto Potete trovare, come al solito il link per il download degli esercizi in descrizione Per qualsiasi dubbio o domanda vi invito invece, come al solito a lasciare un commento A risentirci!